Sono molto contento di partecipare a questo incontro del Migramet organizzato dalla Caritas Italiana con l'aiuto di Caritas Giordania per riflettere insieme, condividere esperienze su argomenti importanti che riguardano la immigrazione. È un aspetto di una grande attualità in un paese che accoglie tanti rifugiati, 3 milioni di rifugiati sono accolti in Giordania ed è un tema dove si può esercitare in un modo molto concreto, molto particolare la carità. Il lavoro della carità è proprio manifestare la carità, aiutare chi è nel bisogno e questi rifugiati, questi esfolati hanno bisogno di questa carità e ci sono tante problematiche su cui possono essere aiutati ed è bello riflettere insieme su questi argomenti.